Oggi no, ma perché invece ad ammirare queste stronzate, ad ammirare un bel film d'azione insieme? Quanto manca? Due minuti per il recupero! Oppure un bel film d'autore? Il mio nome è Sacchi, Arrigo Sacchi, agente segreto 442. O anche un film romantico dove il tuo nonno ha sempre il suo fascino. Azione! Impianti la benca, lingua in bocca, bel me bacalà! Alla prossima è un amore che uscita le mani, guai! Per quel nonno potresti vedere anche l'Italia antieuropea del 96, a Cagirone, oltre il 97, 11esimo col Milan. O anche a me a Parma, quanto ti ha inventato lo stress per farmi andare qua. La tua mamma, Gino, si era stata anche una brava donna. Ma te sei proprio un fiolo di una troia, eh! oltre il 95. Alla prossima è un amore che uscita le mani, guai! Alla prossima è un amore che uscita le mani, guai! Grazie.